Dottoressa, questa conferenza stampa nasce per mettere in evidenza la necessità di fare rete per tutti i soggetti che sono affetti da autismo. Sì, abbiamo deciso, supportati dal CSV, di organizzare tutte le associazioni presenti sul territorio che si occupano di autismo e di fare rete, quindi di unirci per lavorare insieme in modo sinergico su quelle che sono le criticità del nostro territorio, su quelle che potrebbero essere dei servizi che servono ai bambini e agli adulti affetti da autismo e alle loro famiglie. Quando parliamo delle famiglie hanno bisogno di sostegno perché altrimenti sono in grande difficoltà, ma non perché per i figli che hanno questa patologia, ma soprattutto perché non sono supportati nemmeno dalle istituzioni. Esatto, la famiglia è fondamentale. Noi abbiamo previsto all'interno di queste idee progettuali sia degli sportelli d'ascolto, aiuto alla genitorialità piuttosto che del parent training per supportare e aiutare le famiglie nella gestione quotidiana dei loro bambini che poi diventeranno degli adulti. Dobbiamo anche aggiungere che i dati che ci sono a Crotone ma in Calabria non sono dati positivi, insomma c'è necessità proprio di mettere in campo la volontà di aiutare queste persone. Siamo praticamente, la provincia di Crotone è al penultimo posto per quanto riguarda i servizi presenti sul territorio, mentre la richiesta è altissima e proprio questo dato sconcertante ci ha spinto a metterci insieme, soprattutto noi che lavoriamo sul territorio ormai da diversi anni, quindi abbiamo il punto della situazione, le esigenze le conosciamo perché le famiglie ce le raccontano quotidianamente. Abbiamo deciso di creare una sinergia e di proporre una serie di progetti, progetti molto ampi che vanno appunto dal teatro al cinema allo sport. Questa cooperativa sociale insieme ad altre associazioni e altre cooperative vuole mettere in campo un servizio per l'autismo. Qual è la situazione nel nostro territorio dell'autismo? Allora, attualmente per l'autismo ci sono tanti servizi che si occupano di offrire servizi di riabilitazione e abilitazione. Quello che manca però è, ed è il motivo per cui nasciamo e ci stiamo unendo tutti come rete, è offrire delle risposte più sociali alla quotidianità delle famiglie e stiamo tutti, credo, tutti coloro che stanno prendendo parte a questa rete, consapevoli che non è un obiettivo che si può raggiungere da soli, perché la quotidianità implica tanti aspetti. La quotidianità implica il tempo a casa, implica il tempo fuori, l'attività sportiva, il periodo estivo che per molti di noi è il più bello dell'anno, ma per le famiglie spesso con bambini con disabilità è uno dei periodi più complessi. Stiamo dicendo che è giusto l'inclusione di questi bambini che poi saranno degli adulti del domani, ma soprattutto questa inclusione deve essere fonte, diciamo, anche di diversi servizi che appunto non devono essere quelli della riabilitazione. C'è necessità di una vera formazione per questi ragazzi? Sì, perché purtroppo il rischio quando si parla di inclusione che è fondamentale è pensare che si fa inclusione ponendo un bambino, un ragazzo con autismo o con un'alta disabilità all'interno di un gruppo di pari, ma non è inclusione se in questo non viene supportato. Quindi l'inclusione vuol dire darti l'opportunità, gli strumenti, gli aiuti per inserirti in quel gruppo, ma in quel gruppo far emergere le tue risorse, perché altrimenti diventa un metterti lì, che non è quello che le famiglie vogliono. Una delle parole che spesso le famiglie odiano è la pietà, è lo sguardo di pietà, cioè loro vogliono una partecipazione attiva, consapevoli naturalmente, di quelle che sono le difficoltà, di quelle che possono essere i limiti, ma una partecipazione attiva nel mondo fuori. E purtroppo siamo, secondo me, molto lontani, crediamo che tenere un ragazzo spesso in una classe è inclusione, quella non è inclusione, l'inclusione va ragionata, va pensata, strutturata, con tutte le figure, con la scuola, con la famiglia e con i professionisti che si occupano proprio di questo.